ero a vienna per un incontro dei vescovi che avevo i neocatecumenali e lì mi venne da pensare quando mi telefonò la segretaria la bonino che era morente dico mai mi prenoti per il lunedì prossimo non so se ce la farà allora il giorno dopo andai a Molfetta e gli disse Tonino il signore può fare quello che vuole ma può darsi che come il padre misericordioso sia uscito già incontro al figlio del prodigo e allora lo alzarono portarono in biblioteca e lo dissi la messa e lui fece l'ultima predica gli è stata registrata sul padre misericordioso che accoglie il figlio del prodigo io tornai perché la domenica avevo l'ecresimo era la domenica in Albis e lunedì insieme a questa segretaria e altri due dei paschristi arrivamo martedì mattina la disse la messa al collo si era messa una sciarpa di Monsignor Proagno questo grande vescovo del Perù che era fatta di tante strisce di colori diversi per dire che le diverse tribù formano un popolo solo e avevo sul tavolinetto della messa una tovaglietta fatta dalle donne serbe e croate di Sarajevo l'aveva presa la Sarajevo e diciamo la messa così e mentre io mi levavo i paramenti mi chiamarono Tonino se vuole mi ha dato l'una e l'altra ecco queste queste due cose e poi dopo finimmo pregavamo e volevamo dire le litanie ma invece di dire le litanie lauretane quelle che si dicono sempre io avevo preso l'indice della suo libretto sulla Madonna e 31 per i giorni del mese di maggio io leggevo il titolo Madonna del piano superiore prega per me Madonna della strada prega per me Madonna dell'ultimo giorno lui diceva prega per me è stata la sua ultima preghiera ecco la sua ultima preghiera ecco